Sì, Simonetta, buon pomeriggio. Noi siamo a Caserta, sotto il monumento ai caduti, insieme agli allevatori bufalini dell'area del Casertano, che sono in protesta ormai da molto tempo. Negli ultimi dieci anni sono stati abbattuti più di centomila capi di bufala per un prodotto, che è la mozzarella DOP, che è il terzo prodotto più esportato dall'Italia e nonostante gli abbattimenti il problema della brucellosi non è stato risolto. Che cosa chiedete? Intanto i numeri sono 120.000 animali abbattuti, solo l'1,4% è risultato in realtà dopo la morte, dalle analisi è risultato contagiato da Brucella. Quindi c'è su 120.000 abbattimenti, fate voi conto, il 98,6% di animali che erano sani. Quindi non è solo un problema che ci sono animali abbattuti, ma soprattutto che sono inutilmente stati abbattuti, una strage che grida vendetta, su cui chiediamo ancora spiegazioni. Noi poniamo un tema molto chiaro, è fallita la strategia fin qui, non solo per i numeri degli animali abbattuti inutilmente, ma anche perché hanno chiuso nel frattempo 300 aziende, anche perché abbiamo perso migliaia di posti di lavoro. Un danno secco per il territorio, per l'economia. Sì, perché poi sullo sfondo c'è una denuncia alla Procura della Repubblica, un'inchiesta che è stata aperta proprio il mese scorso, con dei dati che arrivano dall'Asle, appunto, che confermano che gran parte degli animali abbattuti non avevano la brucellosi. Oggi c'è un incontro in Regione Campania con l'assessore Caputo all'agricoltura. Che cosa vi aspettate e se non arrivano le risposte che volete, che cosa siete disposti a fare? Intanto noi andremo fino in fondo, le risposte che vorremmo sono molto chiare. Abbiamo prospettato le linee guida di un cambio di rotta, l'assessore ci ha detto portate le proposte emendative. Bene, allora noi oggi incominciamo dalla prima proposta, cambiamo il titolo. La Regione lo ha intitolato piano di eradicazione, noi diciamo piano di prevenzione ed eradicazione. Se ci intendiamo su questo e quindi se all'interno di questo è compreso, fra l'altro, la vaccinazione, l'autocontrollo e così via, noi siamo disposti a discutere di tutto. Se la politica invece non saprà assumere le sue responsabilità e continua questo balletto indecoroso dello scaricabarile, voi pensate, noi stiamo discutendo nell'assessorato all'agricoltura di un problema che invece viene normato dall'assessorato e dal Ministero della Sanità. Qui siamo di fronte a una cosa incredibile. L'assessore ha detto finora io faccio quello che posso, sono l'assessore all'agricoltura, poi però è il Ministero della Sanità che ci detta le regole. Oggi noi se risentissimo questa cosa diremo va bene, facci parlare con papà, dicci dove è papà e discutiamo con chi decide le regole. Quindi poi sabato ci sarà un'altra grande manifestazione e la protesta va avanti. Grazie Gianni Fabris, da Caserta è tutto, vi restituisco la linea.